bella ragazzi siamo tornati siccome nell'altro video che ho caricato bella a tutti ragazzi siccome nell'altro video non c'era l'audio nell'altro video che ho caricato lo volevo dire faccio video adesso perchè andiamo via da scuola verso le 11 e mezzo, mezzogiorno e le 1 e mezza quindi c'è un po' di tempo per fare i video e quindi abbiamo tempo e anche abbiamo tempo di fare video usa questa di fare video nel canale di Giorgio Focateschi che era il mio e quindi adesso andremo a filmare quello che forse succederà in casa nostra e però se non succede sarà un fail proprio strano adesso metteremo in pausa ci vedremo in casa ragazzi stiamo andando i dribbling le skill di FIFA 19 andrea 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 non c'è niente c'è una cosa per lo stendino tan 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 cosa? ci fai leggere quelle sono due ci devi mettere la sensazione ci sono sì no quella è è la vicina di mano la faccia sono le tue raga 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 fai un rinco qualcuno ha spostato i miei scarpe andrea raga andrea è sparito perché fa le foto scusate andrea si hai sentito andrea ma veramente non dire cucina erano davanti erano davanti erano davanti erano davanti erano davanti bravo piccolina andiamo piccolina aspetta 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 andiamo adesso c'è il video mamma metti in pausa metti in pausa adesso ok mamma mamma mi sono fatti i capelli non so se si vede 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 se ci sono foglietti hai gambe hai gambe e braccia puoi andarci anche tu hai gambe e piedi puoi andarci anche tu ci vediamo tutto così ci vediamo tutti ci vediamo tutto così sei l'unico c'è i piedi e i gambe come ci sono le video però non mettere i quadratini però mettiamo la mano la foto non si vede e poi tanto io sono già stato visto appunto apriamo il canale dove ci sei è cresciuta ciao bellissima se vuole mettere la foto mettete in pausa anche se giuro un po' no? perché lei mi ha già fatto vedere a lui guarda il video poi dai andiamo allora ragazzi fra i miei tre dai uno fra i miei tre saremo vicino nel cancello di casa mia tre no uno ok ragazzi questa bacchetta di Harry Potter aggressino mi ha chi ha teletisportato qua loro erano un po' lente quindi perché con loro non ha funzionato apriamo le mischiepe non ci sono più sì sono aperta non sono più vicine no guarda se c'è qualcosa altra vieni c'è la mia no no è quello da comprare ma non c'è niente l'icario che è staccato venga venga che cos'è quella cosa ma sei il cretino mamma stazione no 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 picchiate piccatevi che faccio l'hai fiuso io ho anche strozzato una volta c'è il cavo di picchia mi ricordi io ho visto che avete litigato voi due puoi dargli un pugno dopo da parte mia eh però abbiamo litigato sì io voglio eliminarlo con Alba vedete ma che stavo non andando Alba vabbè non sono scema ragazzi a poggiare 40 iscritti sarà il tour della mia nuova casa ma quale nuova casa della mia casa e fuori è questo quindi tutti lo sanno poi la casa perché si confone con gli asili youtube che ti fa fede fede fai l'andrea e forse raga ma che schifo prende oh e forse la pastiglia la pastiglia mmm ma dobbiamo anche la mentale dai io la pastiglia io la pastiglia è questo mmm ma din 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 do ma din 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 do il campanello il club campanello di joy ma din 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 taglio tutto taglio tutto stop stop ragazzi comunque dicevo forse il like speciale a 40 iscritti sarà il primo video su PS e perché andrea diglielo perché tu le valo no perché me lo metto volevo che guardate come la ma perché nella speciale a 40 iscritti sarà il primo video dell'apri 4 ehm perché forse dico forse gli regalo forse con l'audio si vede solo la bocca registra bene ciao genere mi dice forse poi e basta solo quello ti dà e basta e forse neanche quello ma scusate regalo di la busta ma chi se ne frega regalo di la busta perché ti mettono il dito nella selecca intanto ho più scritto di te chi se ne frega io non ce n'è anche un canale qui ragazzi andrea comunque non aprirà mai un canale eh quindi non andate a cercare spagate schi bla 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 andrea c'è che mauro contu che è un canale che fa molto ridere mauro contu tanto tanto cancela tutti fa molto ridere fa molto fa 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 molto ridere andate a vederlo prima andate a andate andate a vederlo prima ragazzi vedete la prima punta e cancela di video ma cancela di video che voglio finire si chiama video prova poi lo giocato è quello eh tanto figlio in mente qua di cancela di video vieni via lo sento da quattro no qua quattro 25 quanto inizio andiamo non so dire rubino è la quattro 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 un cambiamento non ce li fa gli schifo e certo ce li ha che parla ragazzi no provate a mettere l'orecchio ragazzi abbiamo fatto un fail i video si conclude qua no no non mi posta lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale e mi posta e mi saluto no potremmo ancora continuare bene ragazzi ciao